La perfetta gestione delle procedure del reparto di anestesia e reanimazione dell'ospedale di Foligno ha salvato la vita ad una 52enne folignata affetta da una grave polmonite da legionella. La notte scorsa i medici anestesisti dopo aver monitorato le condizioni della paziente hanno subito chiamato il centro respira dell'ospedale Careggi di Firenze, uno dei reparti della rete nazionale specializzata nel trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta fornendo i parametri della paziente necessari per attivare la procedura di trasferimento. Poco dopo è arrivato il gruppo di specialisti del nosocomio fiorentino che ha provveduto ad attaccare la donna alla macchina cuore e polmoni operazione che ha permesso il trasporto senza rischi al Careggi. L'intervento gestito dall'equip del dottor Raffaele Zava del reparto di anestesia e reanimazione del San Giovanni Battista ha funzionato alla perfezione in tutte le sue fasi confermando la validità dell'intero sistema di gestione dei pazienti con gravi insufficienze respiratorie. Si tratta del secondo intervento di questo tipo all'ospedale di Foligno. Lo scorso anno infatti un paziente affetto dal virus H1N1 venne salvato seguendo la stessa procedura.